andiamo ad allenarci va ma sappiamo come allenarci dai che lo scopriamo insieme ok ragazzi ho visto un paio di volte il video posso provare a rifare il gesto tecnico provateci anche voi grazie ok mi sono allenata ma sei sicura cosa fare con i tuoi due piedi? dai sono antivergognaria lo so che il suo sogno è quello di giocare davanti a tante persone fammi vedere che serve sei pronto a scendere in campo? smarca tutti quelli che incontri dentro casa grazie 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 grazie